Allora, intanto che scarichi gli aggiornamenti e che si imposta tutto quanto, vi spiego un po' che tipo di carriera ho in mente. Vorrei fare una carriera, come fece nello scorso col Perugia, più o meno realistica, forse anche più realistica di quella col Perugia, nel senso che col Perugia il primo anno fece un mercato veramente importante, nonostante non avevo sbloccato il bonus del budget aggiuntivo, del cambio di proprietà di quello lì del catalogo, però avevo fatto comunque un mercato molto importante, avevo già nel primo anno stravolto un po' la squadra. Qui col Frosinone il mercato lo faremo, perché lo faremo, qualcosina andremo a toccare, però vorrei tenere l'ossatura del Frosinone, quindi almeno per la prima stagione vorrei toccarla poco la squadra, sia in entrata che in uscita, per cui a parte che avremo un budget totalmente ridotto, che per forza di cose dovremmo fare così, però vorrei fare un Frosinone che lotti veramente per la salvezza, magari anche una salvezza tranquilla, ma quello deve essere l'obiettivo. Beh, budget comunque 7 milioncini scarsi non è proprio male, il club fu fondato ufficialmente nel 1928, ma solo nel 90 adottò il nome di Frosinone Calcio, Attualmente Milita in Serie A, intanto saluto chi si sta iscrivendo al canale, anzi me li devo aprire qui così, vi leggo anche in diretta. Allora, poi continuiamo a leggere la storia del Frosinone. Attualmente Milita in Serie A, la massima serie del campionato di calcio in Italia, lo storico esordio in Serie A per i giocatori del Frosinone, soprannomiati i Canarini, risale dalla stagione 2015-2016, chiaramente è molto regerente la storia in Serie A del Frosinone. Allora, l'allenatore, scegliamo un allenatore, stavolta però ce ne evitiamo di prendere sempre la solita faccia anonima. Potremmo prendere un vecchio così, daremmi un feedback sull'allenatore, o prendiamo Morgan Freeman, o prendiamo Seedorf, oppure, boh, vorrei evitare quelli anonimi soldi, oppure questo qua, che è un po' anonimo, prendiamo questo qua, bianco dicono, c'è già del razzismo in chat. Allora, difficoltà, difficoltà, ultimate, direi che partiamo con ultimate, durata tempi, vabbè, facciamo 6 minuti per ora, anzi facciamo anche 4 dai. Valuta, valuta euro, stadio, adesso lo sistemiamo, rose, rose aggiornate, chiaramente, finestra di mercato attiva, competizioni europee, attiva la possibilità di giocare in Europa nella prima stagione? No ragazzi, non per noi. Lo stadio, modifica stadio, stirpe, era benito, sì, penso che sì. Queste le attivo, allora, visto che non era per me, non c'entravo niente, finestra di mercato attivo, rose aggiornate, sì, ok, farò vedere chi ha vinto la Champions, sì, certo, ovviamente, facciamo 5 minuti per ora, poi casomai lo abbassiamo, lo alziamo il tempo. Difficoltà, ultimate, andiamo avanti. Dunque ragazzi, ho già visto che il Frosinone ha parecchi giocatori in prestito, tipo i vari Pinamonti, Cassata, Perizza, che sono tutti giocatori molto interessanti, Joel Campbell, ovviamente, noi chiaramente tenderemo a non usarli, ve lo dico sinceramente, se posso, voglio dare la precedenza a quelli che sono di proprietà e che magari crescono anche, piuttosto che usare i giocatori che poi dopo andranno via, certo, se servono li usiamo, non è che andiamo a giocare con una squadra reggigola solo perché non usiamo quelli in prestito, però. Intanto qui c'è l'invito al torneo precampionato. Devo dire che il budget del torneo è alto, considerando che noi abbiamo un budget di 7 milioni, un premio da 4, quasi aumenta del 50%, andiamo a fare, eh, boh, andiamo a fare questo qua, non so, sapete? Dai, andiamo a fare questo qua, 3 e mezzo, 3 e mezzo, in realtà tutte 3 e mezzo, boh, forse 3 e mezzo per 3 e mezzo me ne andrei, non lo so, però in Svizzera mi sembra un po' più abbordabile. Dai, facciamo questo. Beh, non è tanto irreale che il Frosinone venga invitato se guardi le altre squadre, in realtà, perché le squadre di queste tournee sono sempre molto commisurate alla squadra che hai, quindi, no, poi mi serve anche per vedere un attimino quali sono i giocatori che meritano di giocare e quelli che no, oltre al fatto che ci potrebbe permettere di avere un po' più di budget. Bagliato Lidio, Nolimberg e Young Boys, come vedi, non è che sono squadre, sono tutte squadre di bassa classifica nei loro campionati, quindi ci sta il Frosinone. Andiamo a vedere in ufficio. Allora, vabbè, il trofeo dei campioni, bla bla bla, il mercato. Allora, le aspettative. Per la società, il successo non si misura solo i risultati sul campo, abbiamo, vabbè, gli obiettivi tanto sono quelli che avevamo già più o meno visto. Termina a metà classifica, a metà classifica, ah, entro due stagioni, ok. Ok. Terminare a metà classifica entro due stagioni. Evitare la retrocessione, questo immagino per quest'anno. E in Coppa Italia raggiungi i sedicesimi, quindi praticamente già i primissimi giorni per raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda i giovani, ingaggia un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore. Aumenta il valore di un giocatore del vivaio di almeno 5 punti, quindi schiaralo in campo per 5 partite a ideolare o a gara in corso. Del vivaio, quindi bisognerà lavorare un po' sul vivaio. La fama del brand aumenta il numero di abbonati ed almeno il 10% della credenza dello stadio entro tre stagioni, vabbè. Questo è quello in proprio lungo termine. Le finanze aumenta il valore del tuo club del 100% entro tre stagioni. Non sono loro banali questi obiettivi, però ce la possiamo fare. Reso conto dell'osservatore, vabbè, grazie. Sì, vabbè, non mi sembra che ci stia segnalando giocatori particolarmente interessanti. Quindi, osservatore Tommaso, mi chiamo Tommaso Moretti, uno dei nostri osservatori, volevo salutarle, illustrarle come io e gli altri miei colleghi, possiamo esserle d'aiuto. Esistono dei tipi, ma perché tocco tasti a caso? Allora, vabbè. Osservazione area 10, cioè ha già risonti? Ah, è lui che ce l'ha portato, ok, ok. Le grafiche ufficiali della Serie A durante le partite, ma Edino Dzeko, la Serie A non ha una grafica ufficiale, in realtà. Quindi non è come la Premier League che ha la grafica ufficiale. La Serie A, anche se tu la guardi in televisione, la grafica è diversa se la guardi su Skype piuttosto che su DAZON, perché la Serie A non ha una grafica ufficiale, appunto. Allora, abbiamo un po' di osservatori. Qui, ragazzi, lascio proprio brilli e sciolte i vostri consigli. Ditemi voi dove mandiamo i suoi osservatori. Intanto che voi me lo dite, intanto che voi me lo consigliate nei commenti, io vado a vedere un attimino la formazione. Allora, andiamo sulla rosa. E già il modulo sicuramente va cambiato. Allora, io direi di giocare con un 4... La fusione non è che ha grandissimi esterni. Facciamo 4-3-1-2. Andiamo un po', e poi se non va bene lo cambiamo. Però così a naso mi sembra la formazione un po' più adatta a quella che è la nostra rosa. 4-2-3-1 largo, dice SkaSkaZon, ma... Complimenti Xander, streaming liscio e in alta qualità, sei meglio di DAZON. Beh, ci vuole poco, e sei meglio di DAZON. Team TWA già costa troppo, secondo me. Io direi uno in Italia per cercare di avere una base di gioco di italiani. Mi piace. Vice o Vice. Vice o Vice, forse te l'avevo già chiesto, non mi ricordo. Olanda, Brasile e Belgio, per dei talenti... Ok. Italia, magari per qualche giocatore semiesperto, utile alla causa, magari in Premier per qualche colpaccio. A parte la Premier, sono d'accordo praticamente con tutto, Reforfan. Mi piace questo consiglio. 4-2-3-1 largo, mi trovo benissimo. Eh, ma dobbiamo... Anche in Brasile. C'è il problema del fatto che i giocatori brasiliani hanno i nomi tarocchi quest'anno. Non so se sapete un po' come funziona. Quindi vi direi di mandarlo in Brasile. Comunque, andiamo un attimino a vedere la formazione e poi torniamo sugli osservatori. Perché ho visto già che consigliate qualche modo con gli esterni, ma gli esterni alti in realtà non ne abbiamo. Io direi di giocare con Crinch, che è un prospetto abbastanza interessante, dovrebbe avere 23 anni, esatto. E quindi cresce. Golda Nica, che è molto molto forte per una squadra di bassa classifica. A destra, dov'è Zampano? Ah, eccolo qua. Zampano e a sinistra Molinaro. E la difesa direi che è più o meno fatta. A centrocampo, vertice basso, metterei Alfredson. Cipsa. Magliello, non abbiamo qualcosa di meglio, però capisco che è il capitano, però magari... Ah, poi abbiamo Stardights che cresce parecchio. Infatti questo vorrei inserirlo piano piano. A centrocampo, però, chi possiamo mettere? Possiamo mettere... Ah beh, c'è Crisedig. Eh, scusate, non l'avevo visto. Allora, piede destro, Crisedig, piede sinistro. E quindi li invertiamo. Alfredson, piede sinistro. Trequartista. Potremmo, anzi no potremmo. Credo che Joel Campbell lo possa fare, anche se qui dice solo AD, ma... Non credo che sia soltanto AD, infatti può anche fare il COC. Davanti... Ciano, forse è più appropriato se lo facciamo fare a Ciano, però... Sì, mettiamo... Eh, sono un po' combattuto, perché Campbell vorrei evitare di farlo giocare proprio quel discorso che dicevamo prima. Magari meglio puntare sui nostri. Potremmo mettere... Magari Ardites titolare, no. Allora, è complicato fare la preoccupazione. Sicuramente Dionisi. Eh, cavolo. Dionisi sì. Perizzano farò giocare quasi mai, ve lo dico. Eh, non sto cani che abbaglia, che palle. Lo sentite? Non so... Ah, Ciofani, ecco che mi mancava. Eh, scusate, facciamo così. Facciamo Ciofani. No, però stiamo lasciando fuori Camillone Ciano così. Eh, c'ha fin troppi giocatori, vi dirò. Ma domanda. Ah, Ciano sa... Trequartista, ma che c***o. No, Ciano lo met... Oddio, però... Aiuto. Datemi un consiglio, allora. Con i trequartisti, oddio. Trequartisti è un po' tanto, però. metti Ciano Ciorci per mettere il risalto al centro e comando della squadra. Sì, infatti su Ardaits ci voglio puntare. Eh, nomi tarocchi perché non hanno le licenze per i nomi dei giocatori brasiliani, quindi tranne quelli che sono inseriti in squadre licenziate, i giocatori sconosciuti brasiliani non hanno i nomi reali. Intanto ringrazio PRS96 che sei appena abbonato, grande. Allora. Inventa Ciano Regista, dai. Vedo che... A furor di popolo Ciano farà il CO5. In questa squadra davanti mettiamo Ciofani e Dionisi. Con Campbell pronto a subentrare o magari qualche partita gliela facciamo fare anche a di dotare al buon Campbell. Sicuramente con le difese stanche fa la differenza. E Ardaits, però forse io... Sapete che forse metterei Ardaits al posto di... Forse Ciofani, non lo so. Allora, partiamo con Ciofani e Dionisi. E poi quello che convince di me non lascerà piano piano il posto a questo Ardaits che... Sembra uscito dalla galera l'altro giorno. Però secondo me può darci delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda la panchina... Ripeto, avremmo Periz e Pinamonti che sono molto interessanti. Ma tanto a fine stagione tornano alle rispettive squadre. Quindi è inutile allenarli o farli giocare. In panchina ci portiamo... Vabbè, magari un Periz ce lo portiamo in panchina che può tornare utile. Ma anche no, però. Perché abbiamo già Campbell e Ardaits. Salamon sicuramente. Ghiglione magari lo togliamo. Portiamo Gori, Ariaudo, Brighenti. Direi che la panchina è fatta. Sì. Sì, direi che la panchina... Ah, vabbè, c'è Ciccio Soddimo. Che magari qualche partita è là. Gliela potremmo far fare. Però chi lasciamo fuori? Lasciamo fuori i Brighenti. Tanto c'è già Ariaudo come difensore. Questa squadra non ha terzini di riserva. Quindi se salta sto modulo lo proprio bisogna fare subito la difesa a tre. Se salta un difensore... Uno tra Zampano e Mognaro. Allora, per il momento, ragazzi, io mi fermo qui con la formazione nel senso che ci sono... Madonna sti cani, che rottura di coglioni. Ci sono le... I piani di gioco e ci sono anche tutte le istruzioni personalizzate da modificare, però quelle me le studio con calma, perché sennò diventa noioso. E ve le faccio vedere nella prossima live o nel prossimo video, a seconda del prossimo episodio sarà una live o un video, non lo so. Comunque le vediamo nel secondo episodio. Ve le farò vedere quando le avrò già fatte e ve le faccio vedere e ve le spiego. Stasera passo, perché sennò stiamo tutta la sera solo sulle tattiche. Quindi, questo sarà il nostro schema di base. Nooo, dai. Regista davanti alla difesa, non possiamo metterlo Ciano. È un attaccante che può giocare delle quartiste. Ciano, ragazzi, è il nostro fantasista, perché è quello dai piedi buoni, che ha fantasia, che batte bene i calci piazzati. È perfetto lì. Regista, oddio, è molto forzato. Però magari qualche partita possiamo anche provarlo. Meglio Ciofani di Dionisi. Almeno nella realtà. Manco te lo so dire. Mark Cureye. No, ragazzi, vorrei evitare di prendere... Ovviamente è un ottimo consiglio, Scascason, però vorrei evitare di prendere i stessi giocatori che ho preso l'anno scorso. Allora, andiamo a sistemare il discorso della rete globale del mercato qua. Ah, questo lo mandiamo in Italia, anche se lui c'è già stato già... Però, scusate, se io faccio... Gestisci osservatore. Richiama osservatore, magari. Ok, poi tornerà. Allora. Questo lo mandiamo in... Aspettate che mi riprendo i vostri consigli. Ma Zampano sta in prestito. Meglio puntare su uno tuo. È vero, ma non abbiamo terzini. Zampano devo puntarci per forza, anche se non voglio. E i terzini poi... Anzi, io direi di cominciare a fare il mercato proprio dai terzini, perché altrimenti... Ah, intanto Manuel Lisea mi ha chiesto come mai Frosinone Culone. Ma perché è una squadra piccola, per cui ho sempre simpatizzato, visto che comunque sono di Roma e è una squadra comunque del Lazio, quindi mi fa simpatia. Ed è una bella sfida, Ficola, perché è una squadra piccola. Allora, questo lo mandiamo... Potremmo mandarlo in Olanda. Visto che l'avete consigliata in tanti. Dove sta l'Olanda qui? Ecco qui. Lo mandiamo in Olanda. Sì, cerca giocatori qui. Tu invece te ne vai in Belgio. Poi, tu te ne vai... Ah, lui sta visionando cosa? L'Inghilterra. E lui la Bundesliga. Ma forse questo poteva anche lasciarci in Italia. Vabbè, dopo lo risistemiamo. Istruzioni. Allora, cosa cerchiamo? Cerchiamo dei terzini, innanzitutto. Più che gli attaccanti, adesso. Quindi, rimuovi istruzione. Allora, la prima istruzione è posizione. Cerchiamo un terzino destro. Ok? Che sia... Che sia, boh, non lo so. Da prima squadra, sicuramente. Che sia veloce. Che sia promettente. E... Che sia un crossatore preciso. Direi di non esagerare con i requisiti. Così può andare, secondo me. Ok? Facciamo terzino. Tutti e due i ruoli. Tutti e due i lati, ok? Poi... Cerchiamo. Cosa cerchiamo? Vediamo un po' cosa dite voi. Luca Pellegrini in prestito. Questa mi piace. Milenkovic dalla Fiorentina. Questo pure è un bel consiglio. Alfred non c'è il tiro. Mettilo più avanti. Al posto di Chris Heddy. Possiamo valutarla, assolutamente. Magari al posto di Cipsa. Non so se anche Cipsa o Chris Heddy possono fare i CDC. Allora. Detto ciò, io cercherei anche un attaccante, comunque. Un attaccante. Attaccante che sia... Beh, mentali da offensivo, ovviamente. Che abbia dribbling da prima squadra. Veloce. E prolifico. E promettente. Ok. Questa è l'attaccante che cerchiamo. De Paoli. Ecco, anche De Paoli può essere interessante. Buonasera, Vla Fischs. Ho letto bene. Ok, Scascason. Ciao. Allora. Andiamo sul Luca Pellegrini. Vorrei prenderlo in prestito. Sperando che qui il prestito non sia come quello dello scorso anno, dove neanche devi fa chiedere se non sono in lista prestiti. Ok, listiamo le preferite. Poi. Oltre a Luca Pellegrini... Ah, De Paoli. Adesso vengo a recuperare tutti quelli che avete detto, eh. No, però è un esterno De Paoli qui. Ciao Andrinter. Tonali, certo, Tonali. Giusto. Tonali ce l'avevo pensato anch'io. Anche perché Tonali o lo prendi la prima stagione o mi sa che poi non lo prendi più. Eccolo qua. Sandrino Tonali. Ovviamente mettiamo subito in lista. Poi. Troppe istruzioni. Eh... Vabbè, adesso andiamo a sistemare se ti dite che sono troppe. Biraghi. Biraghi. Però Biraghi costa troppo, ragazzi. Ah, ecco, Gumni, giusto. L'avevo letto prima, già me l'avevo dimenticato. Ecco, bravi, ragazzi. Ripeteteli anche diecimila volte i consigli, perché con la chat che scorre stasera siamo tanti, quindi a volte me li dimentico. Andiamo un po' a questo Gumni, va. Che poi me li posso anche cercare un attimino qua su questo FIFA, tra l'altro. Sì, ragazzi, Tonali è il centrocampista col potenziale più alto di FIFA 18 in carriera. Sì, FIFA 19 in carriera, quindi è una bestia. Vignato. Ragazzi, cercate di concentrarvi soprattutto sui terzini, perché è lì che siamo parecchio carenti. Parecchio, insomma. Se si fanno male i titolari, siamo scoperti. E cerchiamo anche di non esagerare con i giovani. Pietro Brelleri al Monaco, come lo paghiamo, ragazzi? Ricordatevi che siamo il frosinone e che abbiamo pochi soldi. Iguale ARP, ragazzi. Fate nomi prendibili. Cerchiamo di non fare sempre le solite carriere tutte uguali. Ah, Milenkovic, che secondo me non verrà mai, però possiamo provare. Facciamolo seguire Milenkovic, eh. Qualcuno me l'avevo visto anch'io. C'era Viviani pure del Brescia, che non è male. Mattia Viviani. Questo pure non è male per niente. E lo facciamo seguire. Poi, pure Abdullahiè da Bo. Questo è uno di quei giocatori che se riusciamo a prendere, lo ragazzi abbiamo svoltato. Ah, l'Anda, anche se questo non c'entra avanti, però è parecchio forte. Se si riesce a prendere, varrebbe anche la pena. Rueg. E Backer. Vediamo un po' questi. Mi stanno dando un sacco di nomi, eh. Sì, adesso cominciamo le trattative. Rueg e Backer, volevo vedere. Facciamolo seguire. E Backer. Backer TS, immagino questo. Dell'Ajax, buono. Tanto questo, anche il contratto in scadenza era da un anno, eh. Hai idea che come prima ondata, intanto buonasera Pietro, come prima ondata, Socrates. Ho messo su Telegram, mazza che culo, ottimo. Maicon del Livorno e Zinchenko. Guardo gli ultimi due che sono Maicon e Zinchenko, dopodiché cominciamo a intaurare le trattative. Ah, del Manchester City però. Dubito che riusciremo a portarlo via. E poi, Maicon. Mo quale Maicon è? A parte che nessuno di questi mi serve, quindi lasciamo un attimo stare Maicon. Quindi andiamo a modificare. Ah, per quanto riguarda l'attaccante, facciamo mentalità offensiva, non ci frega niente. Chiediamo solo che sia da prima squadra, dribbling e veloce. Anzi no, prolifico. Facciamo prolifico, veloce, ma veloce non è neanche necessario. Da prima squadra sì. Allora, facciamo da prima squadra prolifico e promettente. Dai. Facciamo così, mi sono tenuto un po' più basso. Col terzino, modifichiamo istruzione. Terzino deve essere crossatore preciso, sì. Da prima squadra sì. Veloce pure, direi. Eh, qui faccio fatica a togliere cose. Promettente. Vabbè, terzino sarà veloce già di suo. Dai, facciamo da prima squadra, crossatore. Eh, così. Mi è indonto che so, sono tre requisiti, insomma. Dai, andiamo, avanziamo un pochino. Nel modo di paolo dopo andiamo a guardare. Ci abbiamo subito la partita con il Norimberga, intanto. Io direi che queste partite, però, le facciamo, ma le facciamo da quattro minuti, eh. Provalo, Ciano Regista. Ma, eh, Ciano Regista mi sembra un po' una follia, perché è un giocatore molto offensivo, Ciano. Eh, davanti alla difesa serve uno pure che, ok, colibbia di buoni, ma che abbia pure un po' di... Eh, come dire, ma perché è così sbiadita la maglia del Frosinone? Mamma mia, non è giallo fatto bene. Forse è la luce che fa un po' schifo. Perché anche l'erba è giallogna, mamma mia. Ah, devo togliere pardo? Vabbè, adesso lo tolgo, aspettate. Ditemi poi se il volume del gioco è basso, alto, se devo alzare la voce, cioè il volume della mia voce, o del... fatemi togliere pardo, perché sennò diventiamo stupidi. La telecronaca quest'anno è imbarazzante. Guarda, io ho fatto solo 3-4 partite finora con la telecronaca e la cosa è... C'è una cosa... Oddio! Dai! Stava per fare un gol pazzesco Alfredson di rovesciata, ragazzi. Bravo, Cipsa a regolare il pallone. Dentro per Ciano. Ciano la mette in mezzo, non benissimo. Poi Zampano, bola di testa, Dionisi. Ancora per Ciano. Ciano dentro per Cipsa. Cipsa il cross. Eccolo il gollonso, chi è? Niente ragazzi, è venuto giù lo stirpe al gol di... Ah, che parla, intanto stiamo giocando a... Siamo in Svizzera in questa torne, quindi vabbè. Niente, piccolo crash del... In realtà della mia connessione, credo, perché a un certo punto mi si è sconnessa anche la play. È stato un attimino un calo di linea. Vieni qua, vieni vicino che te la gioco corta. Nooo. 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 Ecco, questa è una cosa che devo imparare a tenere... Di cui devo imparare a tenere conto. Il fatto che i passaggi in FIFA 19 sono molto diversi da FIFA 18. Qui conta tantissimo la tecnica. I giocatori che non hanno tecnica spesso la passano a cazzo di cane. E qui ho sbagliato io a darla corta, probabilmente. Però mi ero anche girato bene, ma guardate che passaggio ha fatto. C'era il terzino comodo lì, ma ho voluto darlo al centrocampista. Abbiamo regalato veramente un gol al Norimberga senza motivo. Oh, siamo al 94esimo di due minuti di recupero. Che fai, fischi? No, non ci credo. Meno male! Uh, sportiello bola! Clamoroso, ragazzi. Stiamo trovando un tempo supplementare alla fine della tre minuti. Vabbè. Allora, neanche la Lazio Cominza di Sburgo butta le partite così. È vero, ho fatto una cosa veramente pessima. Frosinone di base, come ti sembra, vuol puntare alla salvezza? Parliamo della realtà o parliamo del gioco? Ci punterai su Pinamonti? No, perché è in prestito Andre Inter. Perché se ci punto in realtà spreco soltanto tempo, perché poi torna l'Inter. Quindi è inutile che sto a puntarci. È il motivo per cui non punterò neanche su Campbell in realtà. Allora, intanto per rispondere a Jamma, ecco, nella realtà, ma io a inizio campionato secondo me il Frosinone pronti via sulla carta aveva una cosa molto buona per una squadra di bassa classifica. Quindi io vedevo squadra sulla carta messe peggio. Però purtroppo il Frosinone si sta dimostrando veramente inadatto alla categoria. Mi dispiace perché io, come detto in apertura, faccio il tifo per il Frosinone nella parte bassa della classifica. Quindi mi piacerebbe vedere il Frosinone in Serie A anche l'anno prossimo. Però se giocano così, male male. Cioè, sono riusciti ad essere imbarazzanti anche contro una Roma imbarazzante nello scorso turno di campionato. E guardate che per giocare peggio della Roma in questo momento ce ne vuole. Quindi, non lo so, non lo so. Chiaro che dovrà cambiare qualcosa, immagino. Dovrà a un certo punto svegliarsi perché ancora non fanno neanche un gol. Siamo ormai a ottobre. Sulla carta, secondo me, è una rosa molto buona. Anche questo che mi ha spinto ad iniziarci comunque qui su FIFA perché... Ha una bella squadra. Cioè, ha un bel 11. Quindi, boh. Secondo me le carte in regola ce le hanno. Vediamo se si svegliano. Io non ci credo che abbiamo sul sol l'imbarazzante. Io non ci credo. Cioè, cross sul palo... Boh, vabbè. Non è manco colpa di nessuno perché... Qui manco il portiere c'ha colpa. La palla che sbatte sul palo diventa un assist perfetto. Vabbè. E lo Young Boys va in vantaggio. Ecco là. Che è sta difesa altissima? Assalè. A tu per tu col portiere, praticamente. Assalè. 2-0. Dipendiamo l'imbarcata con lo Young Boys. Prima che il tuo giocatore colpisca la palla... Sì, no. Lo so. Cioè, lo so che in realtà il momento di premere la seconda volta è esattamente prima dell'impatto. Quando c'è l'impatto col pallone. Il problema è che faccio fatica a farlo col tempo giusto. Quindi l'indicatore mi aiuta. Eh, abbiamo buttato quei punti col Norimberga. Veramente, guarda. Proprio un coglione l'ho stato. Occhio. La prendi questa, sportier. Bravo, Alfredson. Bravissimo. Via sto pallone, dai. Da che si riparte? Molinaro. Dai col controviede. Palla per Ciano. Vai Camillone. Vai Camillone. Accentrati. Ciano. Avanza Ciano. Se la porta sul destro, Ciano. Lo carica. Camillo Ciano! 2-1 a coce la distanza del Frosinone. Con il suo fantasista. Camillo Ciano al 27esimo. Azione personale. Vabbè, Young Boys è da Champions League nel girone della Juve. Ci sta a soffrire. No, ma infatti devo dire che questa difficoltà ultimate mi sembra comunque azzeccata. Perché con una squadra nettamente più forte come lo Young Boys stiamo soffrendo parecchio. Anche se qui Camillone fa un pezzo... Anche lui da Champions League. E ci porta sul 2-1. Guarda, it's... Cipsa. Alfredson. Dionisi. Guarda Cipsa che va. Cipsa in ora di gore. Cipsa prova il tiro. Cipsa! 2-2! L'abbiamo ripresa ragazzi. Dai! L'abbiamo ripresa. Comunque Alfredson mi piace veramente tanto. Di mezzo al campo ci sta la grande perché c'ha... C'ha quella garra che serve per recuperare i palloni. E poi però c'ha anche i piedi buoni. Quindi mi piace. Mi piace proprio Alfredson all'inmediana. Non era male il consiglio che mi avete dato prima di invertirlo magari con Crisedig. Però effettivamente è vero che Alfredson ha i piedi migliori. Ma a parte questo è anche un buon motivo per lasciarlo lì. Ma è un po' lento Alfredson. Mentre io ho paura che soffrirebbe un po' da mezz'ala. Mentre lì invece è proprio il suo ruolo. Vedete partecipa sempre moltissimo al gioco. Smisse palloni come questo per Molinaro. Tra l'altro qui accompagna anche Alfredson. Lo cerca Molinaro. Ancora Molinaro. Prove per l'islandese. Col destro! Marzino. Metta in angolo. Comunque ragazzi il recupero è qualcosa di scandaloso. Siamo al 49esimo di due minuti di recupero. Cioè qui fischiano quando gli pare. Togliamo Ciano che ha faticato. Mettiamo. Anzi no. Mettiamo. Qui. Scusate ma. Perché stiamo giocando col. C'era qualcosa che non mi tornava. Ma che formazione è questa? Ma che cazzo? Ardaitz mediano. Ciano pezzi. Ma che è? Perché difesa a 3? Ma che è? Ah è vero. C'hai ragione. C'hai ragione Winnerjack. Perché ho messo offensivo le tattiche cambiano. E vabbè lo lasciamo offensivo. Me l'avevo dimenticata sta cosa. C'hai ragione. Me la tenevo in conto. Eh vabbè. Cazzata mia. Anche se comunque quando abbiamo cambiato col 3-5-2 stiamo andando alla canna. Stiamo andando alla canna. Perché comunque non l'ho cambiata. L'ho lasciata. Solo l'ho un po' aggiustata. Eh comunque le formazioni me le imposto per bene. Anche con i piani di gioco me le imposto per bene per la prossima volta. Così. No. 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 Oh. La prendi? Ma le hanno fatto sta cazzata. Attenzione però. Questa palla sbagliata. Dionisi. C'è Campbell al centro. Palla per lui. Campbell. La prolunga all'altra parte. Zampano. Zampano. 3-2. La remuntata. La remuntata. Si completa con il gol di Zampano. Che ha accompagnato a destra. Ha fatto tutta la fascia per tutta la partita. Così come un molinario dall'altra parte. E corona questa gran prestazione con il gol. Bravissimo Campbell. Qui a non tirare. Nel Zampano la fa passare tra difensore, portiere e palo. 3-2. E adesso cambiamo di nuovo tutto. Andiamo in ultradifensivo. Non andiamo a fare niente se tatticamente si stravolge. Ora. Bertone. Attenzione che vengono avanti tutti. Adesso il cross. Occhio. Zampano. Sempre lui. E ovunque. Poi Ardice. Gori. Ci pensa un po' troppo. Ma alla fine la palla finisce. Come? Andava in braccia di Sportiello. Che adesso non la molla più. Scocca ora il 92esimo. E finisce qui. Il frosinone. La ribalta. E porta a casa 3 punti pesantissimi in questo gironcino. Ottimo. Con R1 lo chiami direttamente vicino a te il giocatore su angolo. Si lo so ma non me lo prende sempre purtroppo. Abbiamo già il risconto su Mitchell Bucker. Vediamo un po'. Allora non ha una clausola. Costa un milione. Questo Bucker. Vediamo un attimino anche su FIFA com'è. Potenziale 79. Si non è male come... Più che altro è velocissimo. Questo è molto interessante perché è velocissimo. Si potrebbe anche considerare l'idea di... Teniamo un attimino qui che non è male. Andiamo perché adesso abbiamo uno scontro al vertice con Real Valladolid. Anche loro stanno a 4 punti. Quindi ce la giochiamo in questa partita con gli spagnoli. Ardites lo facciamo riposare. Voglio provare Campbell di punta stavolta. Voglio provare Ciccio Sodimo. Vabbè no però Ciano è ancora bello fresco. Lasciamolo giocare Ciano. No basta in realtà. Basta così. Anzi voglio la coppia Ardites-Cambel. Poi Ardites-Cambel lo sostituiamo. Però in queste partite voglio fargli mettere nelle gambe un po' di... Di corsa un po' di esperienza. Come mai controlli su FIFA? Beh perché voglio vedere più o meno il potenziale. Sappiamo che controlli su FIFA non è preciso ma è indicativo. Quindi ci fa capire un pochino il potenziale dei giocatori. Si è capito che Campbell e Zampano devono giocare anche se sono in prestito. In frasione quest'anno è pieno di punte. Sì è vero. Ne abbiamo veramente tante. Io non capisco il problema dei tiri. Anche se non sei pratico col time finishing si può sempre tirare premendo cerchi soltanto una volta. Non bisogna per forza tirare col doppio cerchio. Sì è vero che non bisogna per forza tirare col doppio cerchio. Ma siccome ho la sensazione che quel tiro se lo si impara a controllare poi diventa parecchio determinante. Soprattutto giocando poi online a foot. Io mi forzo un pochino a cercare di imparare perché vorrei imparare il prima possibile. Tanto vedo che non so se è sempre la luce dello stadio che fa schifo ma sta maglia di frasione è sempre un po' sbiadita. Comunque Krissetig. Ciano. Ardaiz. Scende a destra dal solito Zampano. Il cross di Zampano basso non era mai l'idea. Subito in difficoltà dal bagliato lead. Sì comunque Zampano giocherà anche se è in prestito perché non abbiamo un terzino destro altrimenti. Campbell farà un po' da jolly. Sarà un po' il dodicesimo uomo. Attenzione. Magari non partirà a titolare ma sarà quello che entrerà praticamente in tutte le partite. Ci psa. Finisce qui il primo tempo. 0-0. Partire abbastanza bloccata. Raffrosinone e Real Valladolid. Pareggio che tutto sommato ci potrebbe anche stare bene. Perché di là vince il Norimberga che però si porterebbe quindi a 5 punti. Quindi se non fatti i conti male al momento siamo in 3 squadre a 5 punti. Quindi conta forse la differenza Redi. Se riusciamo a vincere è meglio. Campbell. Palla per Zampano. Non è male. Il cross di Zampano non è male. Manco questo! Porca miseria il pallo di Ardaiz. Gori. Palla per Cipsa. Cipsa aspetta la sua posizione dell'ennesima di Zampano. Il cross di Zampano. Eccolo! Eccolo qua! Eccolo qua il gol dell'1-0. Non ho visto manco chi ha segnato. E ha segnato quell'avanzo di galera di Ardaiz. Guardate lì. Ancora con la cavigliera elettronica. 1-0. Primo gol con la maglia del Frosinone. Per Ardaiz. Mica male. Lasciato completamente solo. Che è scato benissimo però a Zampano. Ragazzi il Zampano è fortissimo. Lo voglio riscattare. Ve lo dico. Zampano tanta roba. Sì Pier. Zampano è veramente forte. Alfred Zampano in posizione. La gioca su Ciofani. Gori. Dall'altra parte. Per Soddimo. Il sinistro di Ciccio Soddimo. Finisce qui. Finisce qui. Vinciamo il gironcino e passiamo il turno. Gran prova del Frosinone. Io direi che avanziamo fino alla partita col Basile e poi ci fermiamo qua per stasera. Già abbiamo preso 800.000 euro per aver passato il turno che non è poco per noi. Impostiamo anche l'allenamento. Allora chi possiamo far allenare? Vediamo un po'. In crescita mi sa che non ce l'abbiamo più nessuno ormai perché è una squadra tendenzialmente un po' vecchia. C'è Cassata che però in prestito non me ne frega niente di farlo crescere. Io farei allenare sicuramente Grinch anche se insomma c'è un'età per cui secondo me cresce poco. Però facciamo allenare poi. Davanti sono tutti... Ecco beh Ardites giustamente in crescita non ci avevo pensato. Eh su di lui potremmo puntarci parecchio. Lo farei allenare anche più di una volta. Certo che a 19 anni così. Fio mio a 40 anni sei consumato. Allora poi mettiamo delle ali. Non c'è nessuno. Oppure qui in realtà non c'è nessuno. Potremmo mettere Goldanica ma pure Goldanica boh. Facciamo allenare Ardites va. Finché non arrivano un po' di giovani dal mercato facciamo allenare lui. Quei calci pezzati come è messo? Male. Facciamo allenare sui passaggi. E poi l'ultimo lo lasciamo a Goldanica. Intanto Ardites è fatta a 90 minuti con metà stamina. Poi se lo cambiamo. Cheat. Gli islandesi. No no ma non mi dimentico Dedons. La cosa degli islandesi poi... Me la guardo con calma anche perché adesso dovrei andare a vedere quali islandesi valgono la pena di essere portati. A forse non è quali magari sono un po' più scarsi. Anche quanto costano eccetera. Arriva resoconto anche su Zincenco. Il mercato uno lo facciamo alla prossima volta. Forse già domani sera. Cioè lo finiamo. Perché adesso l'abbiamo impostato. Abbiamo cercato di giustizia di eseguire. E qui arrivano un sacco di resoconti. Ah c'è resoconto su Kami e Rueg. Come vediamo i resoconti. Me li guardo anche su FIFA questi qua. Questo Rueg pure non è male. Vediamo un po' su FIFA. Kami e Rueg 84 di potenziale ragazzi. Questo non è veramente niente male. Poi 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 vediamo quali altri resoconti sono arrivati. È arrivato quello su Island. Island l'avevo già visto che non so quanto diventa ma diventa molto forte. Poi è arrivato quello su Dabo. Anche questo diventa un gran giocatore. Questo costa veramente poco. Questo andrebbe preso subito. Mattia Viviani del Brescia. Costa veramente niente questo. Si potrebbe provare a prendere. E Milenkovic. Milenkovic già costa troppo. Se almeno non è alla portata. Peccato perché sarebbe un grande acquisto Milenkovic. Ma costa già troppo. Vabbè. Allora ragazzi. Qui ci abbiamo da fare la semifinale col Basilea. Vediamo l'altra semifinale qual è. È Rangers Norimberga. Capace che ritroviamo pure il Norimberga in finale. Oppure i Rangers di Steven Gerrard. Comunque. Tanto saluto anche Napoli Cuore che ha iniziato a seguirmi. Vi ricordo che potete abbonarvi. Col tasto che c'è in alto a destra sopra il player. Se siete abbonati ad Amazon Prime potete abbonarvi addirittura gratuitamente al canale. Quindi se volete fatelo. Probabilmente domani sera rifacciamo un'altra live. Così finiamo il mercato. O comunque andiamo avanti col mercato. Quindi se domani sera sto a casa e credo di sì. Ve lo faccio sapere sempre su Instagram. Domani sera proseguiamo. Domani pomeriggio vi ricordo per chi si fosse connesso magari al live in corso. Domani pomeriggio dopo il derby. Dopo Lazio-Roma e prima di Juve-Napoli. faccio al volo uno spacchettamento. Perché ho comprato 20 euro di FIFA Points oggi insieme al gioco. E domani quindi volevo spacchettare un pochino insieme a voi su Twitch. Quindi in quell'oretta libera tra le due partite saliamo qui su Twitch una mezz'oretta. Facciamo un po' di back opening e vediamo un pochino i giocatori su foot. Una mezz'oretta insomma di live su foot. Diciamo che parte ufficialmente il nostro road to George Best. Comunque per gli orari precisi e per sapere poi se effettivamente ce l'hanno alla live domani sera della carriera seguitemi sempre su Instagram. MaxUnderGamer90 comunque lo vedete anche scritto qui in sovraimpressione qua sotto. Quindi non potete sbagliarvi. Non ho più la voce stasera. Grazie a tutti perché siete stati veramente tanti. Siamo stati veramente tanti e ancora tuttora siamo una quarantina. Vi ringrazio. Buona serata, buonanotte. Vi aspetto domani, mi raccomando non mancate. A parte che domani probabilmente se riesco carico anche la replica di questo video. Ma domani pomeriggio sempre qui su Twitch con foot, back opening e poi se tutto va bene anche domani sera che proseguiamo il mercato andiamo a cercare un po' di islandesi e vediamo di portare qualche gioco interessante a rimpinguare la nostra rosa. È tutto, buonanotte. Giustamente qualcuno di voi mi ricordava il Q&A. Il Q&A è saltato soltanto per motivi di tempo. Lo recuperiamo il prima possibile, promesso. Questa però è la settimana di FIFA quindi ci concentriamo su FIFA per questa settimana ma il Q&A arriva. Anche per quello seguitemi su Instagram perché poi vi chiederò di iniziare a lasciarmi le domande proprio su Instagram. Stavolta è veramente tutto. Ciao.